Una manifestazione che vedrà al centro l'autore, il compositore tedesco Felix Mendelssohn di origini ebraiche. Quindi ci sarà una prima parte alle 17.30 al Cinema Smeraldo con la proiezione di un documentario e di un cortometraggio naturalmente su Mendelssohn, sui rapporti con l'ebraismo. La sera invece alle 21 alla sala polifunzionale della provincia di Teramo, concerto di Roberto Prosseda, uno dei più importanti pianisti italiani della scena internazionale, presidente dell'associazione Mendelssohn. Naturalmente, come dicevo, saranno eseguite musiche di Mendelssohn, mentre nel pomeriggio allo Smeraldo saranno presenti anche il regista di questi cortometraggi e documentari, Antonio Bido. Devo dire che ci saranno delle musiche originali di Luca Lombardi scritte appositamente per questa occasione.